Ciao dolci unicorni, sono tornata in edicola e in edicola ho trovato queste due bolle all'interno del cartone perché sempre di cartone si parla quando si tratta di fake stavolta però non sono le lol surprise femminucce ma questa volta sono i boys, i maschietti e quindi sono curiosa perché la scorsa volta abbiamo aperto le bustine dei maschietti invece adesso ci sono le bolle e sono troppo curiosa mi raccomando se ancora non fate parte del team dolci unicorni iscrivetevi subito 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 al canale e mi raccomando seguitemi su tutti i miei social allora detto questo da quale iniziamo non mi ricordo il prezzo saranno forse costati intorno ai 7,90 euro all'incirca 8 euro comunque lì siamo non di più allora iniziamo da questo qui iniziamo da questo apriamo ok già lo scotch non c'è va bene ok una due sono curiosissima il rumore di plastica il rumore di plastica c'è sempre ed è fortissimo sto notando che qui già si intravede l'indizio diciamo così l'indizio e che cos'è questa ok sempre l'indizio un pochettino bombato ovviamente se ancora mi sentite la voce così è perché penso ormai tutti l'avete capito e lo sapete chi mi segue nei social lo sa sono raffreddata con la sinusite ok apriamo l'indizio è qua è caduto no è caduto ok allora l'indizio un occhio è il coltello questo qui se ve lo ricordate c'era questo indizio uguale proprio ugualissimo nei maschietti vi ricordate a quale lollo apparteneva questo indizio scrivetelo giù nei commenti è facilissimo eh scrivetelo giù nei commenti infatti appena ho visto l'indizio subito ho pensato a lui allora ma come la cosa è azzurra di fuori e poi la bolle è rosa all'interno vabbè ok la plastica è veramente oscena cioè è plasticosa è proprio brutta qui c'è tipo ma che cos'è per metterci la vite non lo so cos'è c'era una vite gigante qui mancava il cacciavite un bullone non lo so allora qui abbiamo gli stickers e come sempre sono gli stessi quindi cambia colore bla 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 la cosa misteriosa che spruzza dalle orecchie e va bene ok ormai lo sappiamo posiamoli qui poi andiamo avanti qui mi sa che non c'è nulla no a parte questo buco che cosa ci infilo in questo buco non lo so neanch'io apriamo ok praticamente non c'è nulla non c'è nessun foro da dove prendere gli oggetti è proprio una bolle molto molto semplice quindi è tutto all'interno apriamo ok buttiamo tutto giù vedo un biondo mi sa che è biondo allora abbiamo la checklist il port ma che è allora abbiamo il portabolle già io rido perché ho visto la sua espressione allora ed eccolo qui ok la pancettina c'è e il colore diverso del corpo c'è ormai ho fatto l'abitudine a vedere il corpo bianco la testa bianca il corpo ma che ha la testa ma che ha ma sta male oh mamma sembra così ma sembra morto no vabbè raga così no però cioè praticamente il buco è troppo largo rispetto al corpo che noi dobbiamo andare ad inserire se infatti notate guardate cioè mo che deve stare così cioè un po' bruttino cioè la testa non ci regge sapete quei cani o quei personaggi che si mettono nelle macchine che quando la macchina si muove fa tutto bla 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 ciondola con la testa però inquietantissimo cioè veramente di halloween questo può fare proprio parte di un unboxing lol fake boys di halloween perché è osceno cioè fa paura ragazzi è preoccupato mamma mi sembra posseduto vabbè ok attenzione allora poi il biberon che è volato il biberon che è blu e grigio così tanto perra ok le scarpe che sono tipo delle scarpe ma come sono? boh non l'ho capito vabbè questa cosa bruttissima la dovete togliere che serve a tenerli uniti che oscenità ragazzi mamma mia sembra tipo un peso da palestra tipo fate così oppe 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 e sono bianchi con dei calzini sembrano quasi sportivi e il no raga ma scusate ma non è un maschio? allora questo è un maschio ma che brutto però che sta così ma no sembra morto comunque è un maschio però ha il body da femmina e i pantaloncini da donna cioè non lo so c'è quel quadra che non cosa cioè noi siamo aperti a tutto soprattutto io sono aperta a tutto però fatemi spiegare cioè spiegatemi un pochettino come stanno qui le cose vedete che la testa vola è tutto horror qui allora ok e poi c'ha questo vestitino sto top molto trash devo dire molto vabbè non lo so non so che dire però allora mettiamo qua il body e lo vediamo al completo magari è stato in una festa hawaiiana magari è stato in una festa brasileira non lo so eccolo qui è che cioè mamma mia che oscenità e la scarpa qui vabbè poi ce la leverò il coso al centro vabbè comunque in sostanza è così cioè è strano ragazzi non so come spiegarvelo non ripeto niente in contrario a come è vestito però più che altro la testa mi fa veramente troppa impressione perché mi ricorda i film horror con le bambole con le teste che si muovevano da sole beh no mamma mia oscano qui c'è una checklist molto fintona cioè presa ovviamente dagli originali che lui non esiste negli originali giustamente andiamo avanti con l'altro perché questo è molto inquietante quindi andiamo avanti con l'altro speriamo di non trovare brutte sorprese anche qui magari la testa sarà meglio ok buttiamo il cartone apriamo apriamo la prima cerniera ok strappiamo tutto già all'indizio faceva pensare a qualcosa di maniaco assassino però vabbè vediamo se magari è uguale sì è uguale l'occhio e il coltello fantasia portami via questo lo mettiamo qui apriamo anche l'altra cerniera e vediamo di strappare tutto qui come sempre ci sono gli stickers ve l'ho detto prima sono uguali identici e li mettiamo qui apriamo l'ultima cerniera e scopriamo come è combinato quello che c'è qui dentro speriamo che non sia uguale perché se no sembrano i gemelli di shining 3 2 1 e te pareva cioè no vabbè allora ma qua ho trovato addirittura cose in più allora la checklist è sempre quella quindi la possiamo anche togliere il portabolla a questo punto non se ne frega niente di portarci lui in giro perché non serve a nulla abbiamo il biberon uguale al precedente la testa che è puntualmente volata e le scarpe stavolta cambiano sono sono scarpe femminili io continuo a dire che sono scarpe femminili queste qui le precedenti no il sotto stavolta abbiamo un tutu tipo un costume molto brasileiro con tipo a modi brasiliana i pantaloncini sportivi e qui ci stanno ci stanno veramente tanto e il sopra è uguale al precedente quindi abbiamo trovato i gemelli di shiny vediamo no vabbè raga è uguale al precedente identico spiccicato è proprio uguale la testa cioè ma per quale motivo non stanno dritti sti due cioè guardate è abbastanza osceno perché comunque devono fare il buco più piccolo allora guardate come stanno anche se li mettete tipo fermi da qualche parte loro stanno come se hanno visto la madonna come se hanno visto chissà che cosa un fantasma con la testa per i fatti propri non mi fanno un po' senso vabbè no l'ho decapitato vabbè uno è andato però adesso mentre vesto il suo corpo Maria che cosa scena da dire mentre vesto il suo corpo allora questo è un unboxing di Halloween di lol fake mamma mia allora mettiamo qui infiliamo le le mutandine qua questo costumino molto brasileiro ma è proprio una brasiliana ok vabbè mamma mia mamma mia mettiamo il sopra che è uguale al precedente lol fake e poi proverò a metterci la testolina ma questo qui mamma mia che brutto ma come l'ho mamma mia aspetta l'ho rotto va bene ok non ci fate caso ho rotto il vestitino di sopra ma tanto vabbè non gliel'avremmo neanche lasciato perché è uscato vabbè ok sta così facciamo finta che non ho rotto nulla le scarpine sono qui e la testa sta qui quindi uno ha questa versione beh queste teste guardate non riesco neanche a farvi vedere uno ha le borchie nei pantaloncini e l'altro ha un tutù un costume stile hawaiano stile brasiliano e il sopra è uguale per entrambi date un nome a queste bambole malefiche perché secondo me sono anche possedute per come mi guardano con questi occhioni giganti rossi e la testa che fa così quindi mi raccomando scrivete giù nei commenti i nomi di questi due gemellini molto particolari e inquietanti e niente qua c'era tutto le scarperanno così vabbè queste qua si staccano lo sapete ecco ve le faccio vedere così e così si staccano tranquillamente stessa cosa vale per queste qua e gliele potete mettere se vi rende la cosa più felici e niente vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso queste qua non so se le terrò perché mi fanno veramente paura e impressione e noi ci vediamo al prossimo video ciao dolce di corni ciao e che movimenti sto facendo con le mani prossimo così vabbè ciao ciao ciao